La stella dell'albero di Natale più grande del mondo di Gubbio è di nuovo montata. Ieri mattina si sono ritrovati al lavoro, come ormai da diverse domeniche, i volontari del Comitato Alberaioli di Gubbio, che, complice anche un sole quasi primaverile, si sono adoperati per allestire l'enorme struttura che sovrasta la luminaria dell'albero. Oltre 250 pannelli neon che formano il disegno della stella in una superficie aerea di mille metri quadri, sono stati issati lungo l'impalcatura che si trova appena al di sotto della rocca medievale in cima al Montengino. Un bel sole e soprattutto il calore della compagnia tra i tanti alberaioli, giovani e meno giovani, con familiari e amici, ha accompagnato i lavori diretti come di consueto da Danilo Sannipoli, ex presidente e coordinato in prima linea dall'attuale presidente Lucio Costantini. L'ultima giornata dell'albero, abbiamo montato la stella, anche quest'anno speriamo che sia una stella che porta molte cose buone a tutti gli ogubini. Noi sentiamo la città sempre più vicina, anche l'iniziativa Adotta una luce sta dando degli ottimi risultati anche quest'anno e prossimo anno qualche altra sorpresa. Una giornata meravigliosa perché guardate la quantità di alberaioli, quanti giovani e questo è il segnale più importante, il segnale più bello. Poi tutti questi amici che sono venuti a farci visita, è stata veramente una mattinata molto molto gratificante. Ora si può dire che sia davvero partito il conto alla rovescia per l'accensione del 7 dicembre prossimo quando saranno i piloti della pattuglia acrobatica delle frecce tricolori a presenziare la cerimonia in piazza 40 Martiri, in diretta streaming su trgmedia.it e in diretta tv per premere il fatidico interruttore e dare luce a quella che ormai è la meraviglia natalizia dell'Umbria più conosciuta al mondo. Lo scorso anno la luce della stella si era accesa eccezionalmente in anticipo il 4 dicembre per onorare l'ingresso in città e la consacrazione a Vescovo di Gubbio di Monsignor Luciano Paolucci Bedini. Intanto, come detto dal Presidente Costantini, prosegue con successo l'iniziativa Adotta una luce con le prenotazioni online sul sito alberodigubbio.com delle singole luci dell'albero di Gubbio da dedicare ad un familiare o amico. Un'iniziativa che per il quarto anno si propone di coinvolgere gli appassionati dell'alluminario Gubina attraverso il sito degli Alberaioli.